Buongiorno, va bene, entriamo subito in argomenti. Un organismo vivente, diceva poco fa il professor Giron, viene concepito in prima istanza come un insieme di molecole tenute insieme da forze di qualche natura, in primo luogo forze chimiche e che però si trovano a organizzarsi in un ambiente il cui componente principale è l'acqua, cioè se si vanno a studiare la composizione molecolare di un organismo si vede che il componente molecolare più abbondante è appunto l'acqua, che nel caso dell'organismo umano adulto rappresenta più o meno, sapete, grazie al fatto che esistono gli individui i numeri non sono fissi, oscilla in determinati intervalli, ma la percentuale sulla massa totale dell'organismo rappresentata dall'acqua è intorno al 70%, varia da un organo all'altro e di meno nelle ossa, di più nel cervello e però intorno al 70%, però la massa vuol dire poco perché negli incontri chimici quello che conta è il numero molecole, cioè supponete che io abbia un sistema fatto soltanto da due tipi di molecole, A e B, supponete che A in unità opportune pesi 10 e B pesi 1000, le due specie molecolari sono in uguale numero, cioè ci sono tante molecole di A, quante di B e questo è importante per gli incontri molecolari, il fatto che una pesi 10 e una pesa 1000 vorrà dire che in peso A è l'1% del totale e B è il 99%, però questa cifra è, diciamo, il misleading è in inglese, porta a confusione, sì, è fuori piante, grazie, perché in effetti A è il bisogno di un uguale numero soltanto che A è l, eccetera, e B è pesante. Allora, tenendo conto che la molecola A è così c'era, cioè in unità atomiche pesa 18 e invece le altre molecole, proteine, DNA, eccetera, pesano molto, ma molto di più, si arriva a migliaia, a decine di migliaia di unità molecolari, allora quello che conta è l'appunto della concentrazione molare, allora da questo punto di vista le molecole d'acqua sono il 99% del totale e tutto il resto, proteine, grasso, zuccheri, acidi nucleici, orboni, vitamine, più ne ha più ne metta, sommati insieme sono un 1%, allora uno si può chiedere, ma perché mai i biologi si sono concentrati su un 1% e hanno dedicato molto minore attenzione a un 99%? Non sarà che anche nella biologia c'è quella tendenza classista che c'è anche nelle scienze sociali per cui uno si concentra sulle classi dirigenti a trascurare massi? C'era un eminente uomo politico italiano che diceva che la storia la scrivono le minoranze illuminate e si vede che la biologia molecolare ha la stessa opinione per così, le minoranze illuminate su quegli altri altri che non c'è, è l'acqua, è la massa, inerre. Però se uno studia la storia vede che di tanto in tanto le masse inerre vi entrano nella storia e vedevano lo sconvolgimento spaventoso, quindi non è saggio trafuglare. E quindi sulla fase di questa concezione vediamo un po' tutta questa cosa ormai servire. non è il puro solvente, anche perché il solvente in qualche ruolo lo svolgono. I vecchissimi chimici che parlavano in latina, ai loro tempi, dicevano che la substanzia non ha un'unità, non si soluta, cioè le molecole non interagiscono a meno che non siano disciolte. E perché mai dovrebbero essere disciolte? Che gli fanno di scandalo? D'altra parte, se noi guardiamo un po' nei dettagli, siamo stupidi dal venire. Per esempio, supponete che un chimico in laboratorio prepara in ambiente anidro, cioè privo di umidità, privo di acqua, una specie proteica, una proteina. La proteina è di risulta, perché ci sarà una polvere, utilizzo le proteine, esaminate con opportuni metodi microscopici, non mostrano avere una conformazione particolarmente ordinata. Cioè, sono delle sorte di caterine, di laccetti che assumono una forma salva, sia se non particolarmente ordinata. Se però io su questo salva, faccio cadere gentilmente senza provocare furbolezza dell'acqua, vedo che quando la quantità d'acqua versata supera una soglia, al di là di una certa quantità di acqua versata, mirando, la proteina si ordina, si arrotola, assume una forma ben specifica e elegante, senza che abbia fatto altro. Cioè, l'unica cosa che devo fare è di fare l'acqua. Cioè l'acqua, quindi, ha un'azione dinamica sulla struttura molecolare, fa qualcosa. Cosa fa? E come lo fa? Nel tutto sembra strano per sapere qualcosa, che immaginiamo queste molecoline d'acqua, quelle piccole, queste hanno 18, quindi possiamo immaginare un insieme di bambini che è capace di modificare la forma di un gigante. Perché una proteina rispetto alla molecolina, cioè per ogni proteina data, le molecole d'acqua sono numerose di quelle che ci stanno intorno. In questo caso qua, per esempio, la proteina è fatta dall'unione, dalla giusta posizione di tanti componenti che si chiamano aminoacidi. Per ognuno di questi aminoacidi ci sono una piccina di molecole d'acqua associati. Ma in una proteina di aminoacidi, dopo essere certi dati, sono migliaia, quindi pensate che ci saranno alcune migliaia di molecole d'acqua per ogni proteina. e queste molecole d'acqua uno si immagina, ognuno opererà indipendentemente dalle altre, nei fatti suoi, come fanno? A coordinare il loro intervento in modo da produrre un risultato ben definito. La proteina si avvolge in un specifico angolo ben determinato di avvolgimento, che è sempre quello, non è suscettibile. Cioè c'è il continuamento di avvolgimento. E com'è possibile questo? Allora, ci domandiamo, vediamo un po' le molecole, come e perché si possono coordinare tra di loro. e che mezzi hanno coordinarsi. Vabbè, quando le molecole abbinano in lungo contatto tra di loro, cioè si toccano a una distanza del raggio delle volte, certamente le forze che agiscono sono le forze chimiche, cioè le nuvole elettroniche delle molecole toccandosi e mescolando si si ristruttano e danno un po' a differenza. e questa è l'unica interazione che la biologia molecole prende in considerazione. Ed è certamente il sistema, e in giustamente ci sorgiranno tutte le conseguenze che sono state fatte dagli studi di biologia, ma proprio perché sono tutte giuste, sono tutte giuste. Io, recentemente, in un dipartimento di filosofia a Chilano, ho tenuto una conferenza a cui ho dato il titolo provocatorio, che è il segreto. Prego. Prego. E il titolo era questo, il titolo di cui io sono fiero. Una teoria, essendo da errore, è certamente sbagliata. Perché? E perché la parola errore ha la stessa radice della parola errare, che significa andare in giro, guardare. e le scoperte si fanno quando uno va in giro e guarda. Cioè, erra. Se invece va direttore, prego a direttore da acce, da figlie, da acade, produce il vino, e cia, 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 cia. E invece, uno che si guarda intorno, ha l'insito di fare singole affermazioni errate. Beh, non si può sbagliare per esempio qualcosa. Tipo Cristoforo Colombo che pensava di andare in India, invece è andato in America. Va bene, però se non lo scoperto ha fatto. Mentre quelli che stavano attenti dove mettere le mie e rimanevano sempre in Europa, non scoprivano mai niente. Quindi, anche dire la sciocchezza che partendo verso l'Ovest si arrivava subito in India, che non era giusto, anche se avevano i fondamenti. Se la terra è tonda, uno forse di andare verso l'Ovest e arriva lì. Però, prima di arrivare a l'India, c'erano altri posti dove arrivare che non si potevano. Ebbene, questa è stata la fase per una scoperta. Allora, anche qui, se noi pensiamo un momento a quali altri tipi di organizzazione, le molecole personale, corriamo in rischio di dire, andando avanti qualche studiaggio, però nell'insieme andiamo nella direzione giusta. Il mio maestro di fisica erogica, mi sono molto grato, mi diceva, la cosa importante non è non fare errori, ma farne numero pari. di maniera che si ripensano. E questo è un grande fisico, bisogna fare un numero pari. Allora, le molecole, le molecole, gli atomi anche, sono degli aggregati più o meno grandi di particelle elettricamente cariche, cioè nuclei elettrici, i quali, in accordo con la fisica quantistica, si muove, non stanno fermi. Il concetto base, fondamentale della fisica quantistica è che ogni oggetto, quale che esso sia, non solo un oggetto materiale, ma anche un campo di forza, qualunque un oggetto fisico futuro, cioè non stanno fermi. La natura non è caratterizzata quindi da un orro, ma da un orro, qui è questo. Beh, sì, non stanno fermi. Ma noi sappiamo, per altri versi dell'elettrodinamica, che una particella carica in movimento produce un campo elettrodinamico. Il campo elettrodinamico, come si capisce così? Si capisce col fatto che la particella carica è sempre circondata dal suo campo di forza, che è il campo elettrodinamico e il campo magnetico. Questo è quello che ci fanno. Quindi, quando dovete produrre una particella carica, non dovete produrre solo la sua parte materiale, ma dovete produrre anche la sua parte elettrodinamica, cioè le forze che è questa particella. Allora, supponete che questa particella si muove. Siccome il campo e la materia hanno una differente mobilità, se la particella parte di scatto in una direzione, rendendo in modo immaginoso la congenza, il campo rimane un po' disorientato, diciamo, perché la particella deve essere informata che la particella sta andando a destra. Allora il campo rischia di non essere... Allora che cosa avviene con l'osservatore sterile? Che il campo si stocca dalla particella, che viene emisso. Ecco il meccanismo. Ecco perché quando una particella si muove un motore in uniforme, non viene messo in campo elettrodinamico, perché viene messo solo quando la particella è accelerata, cioè ha una velocità variabile per il tempo. Allora il campo non si accomoda immediatamente al modo della sua sorgente e quindi... E' come se io ti rovendo, ti senti, ti chiedi, e l'acqua è l'acqua in parte tra il bocca, che viene in essa. Ho una radiazione anche in senso, così io ho una radiazione elettromagnetica, tutte le volte le ho. E' una particella che è uscita, è una particella accelerata, quindi non è strano, che emetta, per esempio, un'antenna come funzione in principio. Si prende un metallo, perché nel metallo ci sono particelle decane e libere che sono degli elettroni. O di me, in un metallo ci sono degli elettroni. Allora voi fate una pista, fate una stessa di metallo, fa così. Allora, un uomo applicato per differenza potenziale, quindi gli elettroni vengono messi in movimento, e gli elettroni sono obbligati a seguire il percorso della pista metallica, che fanno così, 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 così. Quindi a ogni inversione di un moto subiscono un'accelerazione, quindi ogni volta che l'elettrone inverte, insomma, all'elettrone, giù un fiotto di campo elettromagnetico esce, ed esce con una frequenza regolare, cioè il numero, la frequenza che cos'è? Il numero di fiotti per ogni tanto tempo per secondo. E questo dipende da che velocità fanno questi elettroni, quindi quante giravolte fanno. In questo modo io, per ogni antenna che costruisco, o una specifica frequenza della radiazione che viene emessa. Così perciò avrei dato, non un'idea, ma una fantasia di come funziona il meccanismo dell'emissione elettromagnetica. Va bene. Allora, gli atomi delle molte sono fondamentalmente delle antenne, e quindi emettono radiazione elettromagnetica, come si vede dalla spettroscopia, cioè sono gli avversi che ci sono radiazioni elettromagnetiche, e allora non vuol dire, ma questi campi elettromagnetici, che poi vanno a contatto, sapete, la televisione a contatto, non possono essere responsabili a un ordinamento a lunga distanza tra le cose. Infatti questa cosa non è insensata, e i primi che se la posero furono i fondatori dell'elettromagnetico, cioè Marco Lui, Tesla, e Marco Lui concepiva, tra l'altro, il corpo umano, come un insieme di oscillatori elettromagnetici intendi un'oscillazione da un centro campo interno. Tant'è vero, mi fanno già altri esperimenti su un raggio della morte, che non si tratta, ma se io allora una radiazione stella possa interferire su questa filtrata magnetica delle parti del corpo umano, e far morire, per fortuna, gli esperimenti che non hanno ancora un processo. Perchè? E perchè questo è il principio, che in effetti, vedremo, c'è qualcosa di giusto, però non va per esempio lo superficiale. Qual è il fatto che non lo superficiale? Che se uno prende delle molecole disgiunte, queste molecole emettono in modo più o meno casuale, se molti delle molecole sono molto casuali, e anche le emissioni saranno casuali, e quindi io avrò tutta una situazione di mutue sollecitazioni casuali, e come tutte le cose casuali stanno in via con zero. E il risultato è di nuovo, cioè è un caos, ma di nuovo, che è in contrasto con il concetto di urbile che invece da quelli che si osservano, osservando un uomo. In effetti, anche se guardiamo le cose dal punto di vista chimico, noi abbiamo delle cose a cui pensare, cos'è se volete ingenue, ma quindi di solito gli esperti che non sono ingenui non pensano. c'è una piccola ragione per cui di solito le grandi svolte nelle varie discipline che fanno il nome esperti. Per esempio la fisica quantistica, la formula di un chimico, che non si parla. E altre, per esempio, in un tutto altro campo, l'origine del fondatore della teoria della deriva dei continenti dice oggi è un meteorologico perché di solito gli esperti conoscono i dettagli, ma non si pongono mai le domande in generale. Questa è una domanda in generale. Allora, come fanno le molecole nell'organico urbile a incontrarsi e a fare reazioni? I tecnici si sono invece concentrati e sono fatti. Dandoci contatti, è chiaro? Si può. E allora, una volta che si sono incontrati, cosa fanno? e tirano fuori tutte le sequenze di reazioni limite, tutte giuste per te, che danno un luogo aiutano i processi biologici, cioè la respirazione implica che c'è tutta una sequenza di reazioni limite, cioè tutto ben verificato e tutto giusto. Però il ragazzito ingenuo e ignorante, e quindi ingenuo e quindi che si pone le domande profonde, si chiede, a te, ma le molecole si incontrano. Come si incontrano? Se non c'è un coordinamento nei loro movimenti, si incontrano in tutti i modi possibili. e siccome le molecole non ci sono nuca, aiuto, ma sono nuca, e loro fanno reazioni limite, con primo limite, cioè ogni molecola può fare reazioni limite, o con limite, non ci sono limite. E quindi, se una molecola si accida, lei nel ciclo biologico dovrebbe incontrarsi con la molecola, dovrebbe incontrarsi con la molecola B. Ma mentre siamo venuti, si incontrarsi con la molecola B, chi si paga? C, davanti, un'altra molecola, eccetera, gli dice con aria pezzosa, te la faresti una reazione limite? Tu dici, perché no? La fanno, e infatti un altro ciclo biologico. Perchè il ciclo biologico che era in corsa, era il ciclo biologico in base al quale io poi mi grattavo una guancia, e invece non mi grattavo più la guancia, ma mi grattavo una guancia. Questo non succede mai. Allora vuol dire che i movimenti del male non possono mai essere passati, ma sono ordinati. E chi li ordina? Ebbene, l'unico agente possibile, conosciuto in visita, se non vediamo il punto di vista conservatorio di escludere cose che non conosciamo, ma no, se vediamo, affondiamo su quello che conosciamo, già è l'unico agente a lunga distanza, quindi non di contatto, ma capace di operare a distanza tra le molecole e il cambio elettromagnetico. E si va. Come fa il cambio elettromagnetico? E anche lui è emesso in modo casuale dalle molecole, perché è connesso con i movimenti delle molecole ad agire? Questo è il problema. adesso, questo problema ha trovato, in questi ultimi decenni, soluzioni, attraverso la distanza dell'indipendenza, che prende i nomi di coerenza, coerenza significa che un grande indipendenza, lo dico, 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 e si fonda sulla fisica quantistica. Perchè? Perchè a differenza della fisica quantistica, che si fonda sull'unico di differenza, secondo il quale, un corpo non cambia il proprio stato molto uniforme, a meno che non intervenga una forza specifica. e quindi vuol dire che tutti i puntamenti di natura, richiedono un delirico esterno, che applica le forze al mondo, ma che produce. Se noi vogliamo invece che questo punto sia scontaneo, cioè non richieda l'intervento di una gente esterna, e quindi che toglie la materia dalla sua passività, fondamentalmente la fisica classica attraverso il principio di inerzia, concepisce la materia come un oggetto passivo, il quale fa le forze solo se poco vogliono fare, ma da solitamente. E noi sappiamo, come sentite, vi hanno intanto queste migliazioni, che questo non può essere vero. Paragoniamo, per esempio, un'automobile con serpatuio quasi assento e un gatto affatto, quindi stanno nelle stesse emozioni. Nell'automobile, nel serpatuio, ci stanno pochi decinti di pensione, e nello stomaco del gatto, a cui ci sta quasi niente. Quindi in Italia hanno bisogno di fare un piede. però qua non è una funzione di diverso, perché il gatto usa le ultime voce di energia che mi sono rimaste per girare intorno e cercare il cibo. L'automobile non usa i pochi decinti di pensione che mi sono rimasti per cercare il più vicino e gli strumenti. Cioè, o bisogna tirare o spingere, ma non solo bisogna portarla. Quindi la fondamentale differenza è che l'automobile è un oggetto passivo, il gatto è un oggetto attivo. E allora qual è la base fisica di questa differenza? Cioè, come fanno? Cioè, la differenza fondamentale tra un organismo vivente e un corpo diverso, l'organismo vivente è trovato in movimento, di autoimovimento. Si muove da fuori. L'automobile non si muove. Si vuol dire, facciamo questo altro per esempio, prendo con la mano sinistra una pietra, con la mano destra un gatto, apro le mani simultaneamente, i due cavoli. E un fisico meccanicista può osservare con soddisfazione con l'automobile tra un organismo esattamente lo stesso tempo a arrivare a fondo. Cioè, vedete che il gatto e la pietra obbediscono alle stesse leggi? E no! Finché c'è stata la garota, ma quando entrambi hanno il punto tema, la pietra è la strada, e il gatto ha una pluralità di possibilità, può scattare, può aggredirvi, può fare tante cose. Cioè, il prosiegio degli esperimenti è diversi che fa capire che le leggi sono in parte uguali, ma in parte diverse. Allora, come nasce quest'automovimento per cui gli organismi viventi e le parti degli organismi viventi producono comportamenti spontanei, non forzati dall'esterno? Certamente un organismo viene quindi può essere anche forzato all'esterno, ma deve essere un certo affoglio possibilissimo, prendere uno per un braccio e mettere uno per te, e acquinare una forza. Però, quel dato ovviamente può buttarsi per terra anche da solo, senza l'intervento. E in questo secondo caso, quale è l'origine del suo movimento fondamentale? Capisce che vi sono un bel po' di monde a cui rispondere. Quindi, uno non deve riposare sugli amori, anche se ha capito correttamente quali sono le basi chimiche alla base degli accadimenti biologici. Però, deve capire tutta questa auto-organizzazione, quindi che determina il movimento spontaneo della materia, ovviamente cosa può avvenire. Allora, torniamo ora alla fisica quantistica. La fisica quantistica che cosa differisce dalla fisica quantistica? Abbandona il principio di inerzia, non nel media, cioè, ogni oggetto quantistica è totale di flucquazione spontanea che vuol dire non indotta alla forza. Cioè, da solo, si agita. Cioè, l'organismo, l'oggetto fisico, quindi fisica quantistica, a differenza di fisica classica, c'è l'uomo in manchi, insomma. Cioè, da solo, beh, questa è la differenza. Benissimo. Allora, un avrò nel ogni corpo ha la sua oscillazione che è assolutamente casuale. ma, ad questo punto, già uno dei fondatori della fisica quantistica, il famoso chimico, che ha accennato all'inizio, Walter Merckx, che si fosse la domanda giusta, ma è possibile che differenti oggetti possano sintonizzare tra di loro, le loro oscillazioni, e oscillare in fase. Cioè, trasformare il Marco di Parkinson in un uomo, in un uomo, Ecco, questa domanda è una cosa del 1916, e nei decenni successivi. questa domanda ha trovato una risposta positiva. Nel senso che, si è scoperto che, attraverso le interazioni che avendo in generale attraverso campi che nel gergo tecnico si chiamano campi di gauge, di cui il campo elettromagnetico è un esempio. il campo elettromagnetico è l'unico campo di gauge a cui gli atomi sono sensibili. Se passiamo nelle altre particelle in work, in intrini, eccetera, ci saranno altri campi di gauge diversi dal campo elettromagnetico che sono in questo modo. Però, siccome non parliamo unicamente degli atomi, adesso parliamo di work e delle altre particelle sottatomiche, ci concentriamo un unico campo di gauge che può bene che vuol dire come il campo di gauge. Il campo di gauge significa un campo tale. Permettetevi vi salvere una domanda. Uno può dire gli oggetti malvistici sì, però se vi guardi intorno non dico nessuno che finiscono a meno che non si sia preso un litro di gamma una causa a stella. Allora lui dice perché gli oggetti fisici sembrano classici anche se non lo sono? Cioè, come è possibile che queste fluttuazioni l'esistenza di queste fluttuazioni debba essere inferita da un'evidenza indiretta cioè dalla termodinamica sostanzialmente che la ragione è che accontentatemi di questa spiegazione autoritaria se questo se non ci fosse la fluttuazione quantissima dentro via è infinita. siccome l'editoria non è infinita vuol dire che cerchiamo di fare le cose e non c'è un altro che se no entriamo in un discorso piuttosto complesso che richiede un problema quindi accettatelo che scelta in questi che su come è nata lo dovuto dire come è venuto in mente perché se fosse stato vero il principio l'introdinamica dell'universo sarebbe necessaria di un'unità infinita e quindi cosa sta dire una contraddizione logica tra la meccanica e la termodinamica classica per evitare questa contraddizione logica bisognava ammettere rilassare il principio di inerzia e ammettere che i colori fossero fluttuati vabbè ma uno si trova ma perché non la vediamo direttamente le nostre ocche la fluttuazione la dobbiamo solo deturre da un'evidenza indietro e guarda la mia esperienza perché queste fluttuazioni avvengono una velocità altissima e mi succede come la luce perché l'annuncio dei pietrini non è un annuncio sconfacente non si scompe cioè poi mi dico il limite della velocità che avvengono queste avvengono a una velocità così grande che dato che le particelle sono accoppiate con un campo che è il campo di luce questo campo a velocità infinita le trafette in tutto l'universo per cui un dato non fa tempo a fluttuare la fluttuazione viene drenata da questo campo questa è l'aspirazione ortodoxia e e quindi il tutto sta e rientra a questo punto nell'ambito del numero che è un'apparenza è un'apparenza classica e quindi questo è perché la fisica classica sembra riprodurre il fenomeno però questa apparenza di riproducibilità riprende tutto questo meccanismo complesso questa apparenza ma come facciamo noi a renderci conto direttamente che questo meccanismo è vero ti guardi e ci aiutare l'apparenza perché invece noi possiamo far sì che questa interazione tra campi elettromagnetici e atom si disciplini assomano un aspetto ordinato in questo modo quello che si assenta è che il moto delle particelle diventano più caotico ma rimorre e simultaneamente contestualmente il campo all'etromagnetico diventa visibile allora ecco gli attori escono dall'oscurità esterna vediamo ora il campo il campo sarebbe una velocità qui portò entriamo direttamente nel caso supponiamo che nello spazio vuoto ci sia un insieme di molecole che formano una specie di molecole ogni molecole coesiste in un certo numero di configurazioni tra i nuclei elettroni e ognuna di queste configurazioni c'ha una certa un certo rivela energetica c'è lo stato quindi la configurazione normalmente la molecole seconda è quella che ha l'energia più bassa le configurazioni altre che hanno un'energia molta quindi sono configurazioni eccitate possono essere raggiunte perché poco dia l'energia sufficiente nella città e c'è la città quando c'è la configurazione decade al centro della spazio allora il vuoto parliamo quindi della conclusione della è pieno di oscillazioni caotiche quelle che vengono da tutti i corpi dell'universo che stanno effettuando allora nel vuoto il vuoto è una sorta di pentolone in ebollizzato dove si trova lo stimolo dell'energia dove allora tra questi stimoli c'è anche quello che è capace di eccitare la la nostra molecola da uno stato fondamentale in cui si trova a uno stato eccitato e questo è che esistono fenomeni fisici che lo allora facciamo però una considerazione su una differenza tra la materia e il cappelletto quanto è grande un atomo un atomo è grande più o meno un centomilaresimo di centimetro a questa grandezza si dà il nome di atomo un atomo è un centomilaresimo più o meno di queste grandi qual è la differenza d'energia tra le varie configurazioni che un atomo può assumere alcuni elettromot l'elettromot è l'unità dell'energia atomica questo è un'energia che un'elettrone acquista sotto la differenza di potenziale di un atomo quindi quanto è ebbè impiamoli una decina di un atomo allora supponiamo che questa energia venga formata dal campo elettromagnetico che sapete oggi in fisica quantissima è concepito con una struttura granulare di un solo granulo di un fotone quanto è grande il fotone è grande per la lunghezza donna del campo del portatore e qual è la lunghezza donna di un campo adegna l'energia di 10 elettromotice quello capace di eccitare risposta mille cioè lo strumento capace di eccitare un oggetto grande l'elettrom è mille volte più grande cioè come se io avessi un cacciate mille volte più grande dell'oggetto ed è proprio da questa differenza di scala che nasce la possibilità del coordinamento quindi dell'acquarezza del coordinamento tra noi e quindi perché l'interazione elettromagnetica è intrinsecamente collettivizzante nel senso che se la densità di altri diventa tale che dentro il volume occupato da un fotone cioè dentro una lunghezza voluta ci stanno molti atomi questi molti atomi sono simultaneamente affetti da uno stesso unico fotone che vengono vissi in fase capito? se per avventura le grandezze fissiche c'erano stanno i due anni ci sono state diverse da voi per cui la lunghezza lunga di corrispondente a 10 elettronvolti invece che un engelstrom fosse stato un engelstrom solo tutta possibilità di coordinamento dell'anacqua non ci sarebbe stata l'anacqua sarebbe stata una collezione di un oggetto condipendente sarebbe stato il caos senza possibilità di un uomo quindi il Fiat Lux che parla la Bibbia deve implicare anche che la Lux in cui si parla ma non c'è come si parla deve presentare questo questa differenza di scala con la materia per cui in un fotone capace di un citaronato le dimensioni devono essere scatti che dentro questo fotone ci possono ci possono avere moltissime i quali automaticamente è una collettività questa è l'origine da questo problema nasce l'origine dei comportamenti collettivi allora seguiamo il nostro giusto allora il nostro fotone che emerge da fuori si trova dentro insieme se io prendo i valori la densità dell'acqua di tutte le condizioni al 100 gradi dell'atmosfera che è un fotone indurte 20.000 anni allora già questa è l'orecola ne ad occhio una la città quella è la proposta di 6 città restituisce il fotone il quale c'è la loro scritta o va a eccitare una seconda molecula o se deve riformare un po' se la densità è bassa la probabilità che non si riforma non è tutta la realtà tecnica cioè ogni tanto va vuoto vediamo una molecula che si eccita però poi si dice eccita è tutto non è successo niente quando le cose stanno così abbiamo i gas cioè le molecole restano indipendenti e ogni tanto trovate ci sono delle fructose che però non danno luogo a nessun esito adesso quando però la densità supera una sonda per cui il fotone che viene emesso da un atomo eccitato necessariamente deve eccitare un altro atomo allora quando è che sta accadendo beh ciò dopo chiamiamo P la probabilità che il fotone è cd è un atomo solo a base delle leggi basilari della fisica quanti si è questa probabilità del volume di uno su cento ok non è tutta la probabilità tant'è che il gas sostanzialmente questo fructose il rischio supponiamo che io dentro il volume del fotone ho un numero n allora qual'è la probabilità che il fotone emergendo dal vuoto ecci almeno un atomo di questi e sarà P benissimo qual'è una probabilità di una certezza quando la probabilità è 1 allora P è fissato n è variabile allora esiste un numero critico di n quando P diventa 1 questo è fissa il valore della densità per cui a questo valore della densità ogni fotone che esce dal vuoto diventa capo da un atomo senza un atomo e quindi ogni fotone che esce dal vuoto e entra in questo insieme di atomi non ha più la possibilità di ritornare la nuova è come nel gioco delle frutte infatti io stesso se ne vediamo effetto frutte perché poi lanciate la nuova e poi entra nell'abiritto rimbalza da un'altra e dove esce rimane infrigionata e lo stesso esce dal vuoto entra nell'insieme di 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 in due di di e poi poi riusciranno Quando si è risonato con l'acqua abbastanza, questo insieme di fotoni è diventato un campo elettromagnetico che uscina con la stessa frequenza delle molecole d'acqua, perché le fanno dare il suo giro. E quindi questo diventa un polo d'attrazione delle altre molecole d'acqua che passano dall'edito e quindi vengono attirate dentro e la densità cresce, 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 fino a che non si scontra con la penetrabilità dei poli, cioè le molecole che vengono raccontate non possono entrare l'una nell'altra perché le nuvole elettroniche, per il principio di Paolo, le respingono e quindi si racconta una densità limite che fissa la densità di questo polo. Se vi rendete conto che io ho descritto possibile la transizione del polo è lì. Perché? Come si svolgono il polo? In un modo semplicissimo. Supporre che sto a una temperatura abbastanza alta, per cui la densità è abbastanza piccola, che questa salda usa. Sto a 200 grammi e un altro ferro. Allora, il valore dell'acqua, insieme a quale è l'acqua? È basso. Abbasso la temperatura, quindi la densità è ancora gas. 120 grammi, gas. 110, gas. 105, gas. 100,2, gas. 100,7. Succede il miracolo. Allora, tutto questo gas diventa limpio, ma senza fare nient'altro. è abbastanza semplicemente, abbassando la temperatura, portando la densità dell'acqua al valore solido, quella spontanea, senza applicare forza, senza fare niente, è diventata liquida. E cos'è il liquido rispetto al massimo? È una sostanza 1600 volte più densa. Cioè, la distanza media tra il tuo modo e il tuo portaccio è 3600. Nel liquido è 2300. Siccome il braccio del valore dell'alumine di strome è in mezzo, 3 strome è esattamente il doppio. Vuol dire che l'alumine costa l'intimo. Si tocca. Vedete? Come è semplice? Abbiamo capito il V. Non solo, ma succede molto, se non più, però. Che, simultaneamente, dentro l'insieme di molecole, c'è anche un campo elettromagnetico. Cioè, nel liquido. E quanto sono grandi questi aggregati? Sono grandi quanto l'aluminezza fonda del campo che viene insieme. Questi aggregati abbiamo dato il nome domini di coerza. Perché all'interno di queste regioni tutte le molecole si muovono come in densi. Si muovono in fase. Con lo stesso ritmo. E' uscita tra la configurazione fondamentale e collecita. La fondamentale è collecita. Adesso c'è una peculiarità. che la rende diversa. Questi aggregati si applica a tutte le sostanze. Le fondamentale sono proprio universali. Però, quello che è specifico dell'aluminezza che la rende specifica è che la configurazione centrale sta appena al di sotto della soglia di tonalizzazione. cioè della soglia di energia in cui un elettrone viene strattato. Cioè, la nuova elettronica della molecolare uscita tra la configurazione in cui gli elettroni sono fortissimamente legati alla struttura molecolare e quindi non c'è verso di qui la via dell'elettro. Nello stato fondamentale, quindi, la consonte è assoluto perché gli elettroni sono così legati che ci muovono in un'erogina di 12,3 volte in mezzo che, talvolta l'idea, corrisponde all'agitazione termica di una materia a 150.000 grammi. Cioè, se io volessi straffare un elettrone con mezzi tecnici ad una molecolare, un dono di ragione per la temperatura è 150.000 grammi. E questo non cambia. Allora, quello che è stato fondamentale. Nello stato eccitato, invece, c'è un elettrone che sta appeso, appena appena per un basso di niente e che viene tirato. E quindi, nello stato eccitato, l'acqua è un semi-condutore. Un semi-condutore è una sostanza che ha una piccola occidazione di un'erogina di un'erogina. Cioè, è capace di un'erogina di un'erogina. E questo è il vero. Beh, se adesso non mangiare gli spiagni cicliologi, non è provare l'erogina ciclone, in effetti. Nell'ambiente all'erogina esistono un fenomeno che lo chiamano di elettron transfer che vuol dire che è facile procursi elettroni. E com'è possibile? Per esempio, il ciclo di Krebs non si capisce se non si assume che il sistema è capace di ricevere elettroni. E chi li dà gli elettroni? Mica nella materia del ciclo di metalli. I metalli sono le uniche cose conosciute che danno via elettroni facilmente. E tutte le biomovecole, inclusa l'acqua, in generale i propri elettroni, si dicono stretti nello stato molecolare. E infatti l'acqua finisce questa traduzione, perché non nello stato valutino, ma nello stato valutino. in questo stato, in cui le molecole danzano insieme. La danza avviene facendo oscillare la molecula tra uno stato di elettroni e tutti le danni a un altro stato, in cui c'è un elettrono basile. Viene dato un piano grande facilità. Ed ecco la disponibilità degli elettroni che alimenta le reazioni oxido-reminutive che tengono conto dell'80% delle reazioni biochimiche che già ci stanno avvicinando. Questo meccanismo attrattivo di tipo elettroninamico però deve confrontarsi con un meccanismo opposto di tipo, il contrario di altro tipo, che viene alla termominamica. perché le molecole si mutano e ogni molecole lo facciamo male. Nel dominio di coerenza è come un dancing in cui tutte queste molecole va male. Però ci stanno anche molecole e quelle da fuori che passano, urtano i danzatori e gli fanno bene il passo. Quindi c'è una continua oscillazione tra coerenza e non coerenza. Una volta molecole coerente con le altre per un certo tempo, cioè finché gli è dato libertà di danzare. Fino a che non gli arriva una collisione di qualcuno e gli fa perdere il passo. Quando la collisione è finita dopo un po' lo riacquista grazie al meccanismo elettroninamico e è ritornato alla rete. Ma qualche altro è accessato per essere male. quindi la totale coerenza sia solo 0 assoluto quando non ci sono quindi a una data temperatura c'è una frazione di molecole che è coerente e una frazione di molecole che non è coerente e il valore dipende dall'ora. Per esempio, la temperatura ambiente le frazioni sono all'incercamente tante 50-50% a 0 grammi di centimetro e a 30 grammi di centimetro sono 40 per cento di molecole e 60 per cento di molecole. più o meno. Quindi che cosa vedete? Vedete che se io facessi una fotografia in un attistante vedrei tante momenti di volume di coerenza su questi aggregati che in media contengono 6-7 milioni di molecole. E nell'intersfixit un poco credenza riscontrano veramente un po' attività nuova. Siccome però questa struttura evolve velocemente una parola in inglese è più che uno si vuole rapidamente nessun dominio di coerenza riesce a esprimere i suoi aspetti di mondo vero perché noi canto ha abbastanza molto. Quindi se uno fa una misura sull'acqua normale a una data del vero quello che trova è l'impressione dell'opogeneità che non è un fatto che è vero istante per istante ma che emerge cioè come media tendo a conteggiare ogni misura richiede un certo tempo per essere fatta quindi un misuro fa una media quant'è che la situazione cambia? cambia di tipo chimica tra la molecola d'acqua e la superficie stabilizza la coerenza cioè compensa l'azione distruttrice della produzione allora vicino a una superficie e pensate nella materia vivente non c'è nessun punto dell'organismo che distingue più di una frazione di micron da una superficie quindi due superfici sono fondamentali l'acqua pura non ha nulla l'organismo invece l'acqua pura ha un sacco di superfici che è interessante perché queste superfici c'erano un'azione stabilizzante sulla coerenza e a quel punto i domini di coerenza non durano più una piccola frazione di secondo ma si stabilizza nel numero di tempo a questo punto questi domini hanno oggi la possibilità di manifestare le loro caratteristiche di lungo periodo e adesso vediamo quali sono queste caratteristiche di lungo periodo che sono legate al fatto che questi domini di coerenza hanno un campo elettromagnetico di trappolato che funge dall'agente lina perché il trappolato è il campo l'agente perché come ho detto che i fotoglini non hanno la possibilità che sono una pallina che è finita bene allora la ragione interessante da tutto il rischio della chirurgia e il do e fuori del dominio non c'è nessun campo dentro il dominio c'è un campo forte ma lì le molecole non si possono muovere fortemente non possono uscire perché non hanno autonomia non hanno intendenza e oltretutto sono così legate tra di loro che nessuna molecole esterna riesce invece la situazione importante è sul mondo perché il molecole esterno posso navigare e lì il campo elettrico c'ha il campo elettromagnetico c'ha un gionto c'ha una brusca perversione cioè passa dal valore alto che ha dentro al valore inferiore e noi sappiamo dall'elettrodinamica che le forze che escono il campo elettromagnetico dipendono dai rametti cioè dalle variazioni non dal valore al fondo ma dal sotto dal rametto allora ho calcolato qual è la differenza di potenziale elettrico che corrisponde l'altra cioè sul bordo della quanti 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 il numero è un decennico quindi è ancora una cosa molto se vado sul bordo e mi chiedo quant'è il salto di potenziale ovviamente l'esistenza di questo salto dipende dallo stato di eccitazione energetica del dominio perché il dominio a sua volta può ricevere energia e ricevendo questa energia in che cosa la trasforma? in energia di agitazione che si entrono quasi liberi i quali producono dei vortici e questi vortici sono degli stati eccitati nella quale quindi può in questo modo ricevere energia vedremo subito da voi grande importanza per questo però adesso vediamo allora data questa eccitazione questa differenza di potenziale sul bordo può variare e varia tra i 50 e i 100 un bordo questo è il bordo adesso non ci pensiamo questo è esattamente il valore del potenziale elettrico dell'embrano allora puoi vedere che il potenziale elettrico dell'embrano non è la conseguenza dell'esistenza dell'embrano ma ne è la cosa cioè data l'esistenza di questo potenziale elettrico altre regole possono essere attratte questo potenziale elettrico disporsi sul bordo e costruire un'embrano cioè è il potenziale elettrico che produce sul bordo delle domini di coerenza che produce l'ambrano non viceversa va bene questa è una possibilità adesso veniamo a un altro fatto al fondo dei conti siccome i domini di coerenza sono immersi in un ambiente dove c'è il sole e tutte le sue agenti di energia una relazione chimica l'accitazione del cambio questa energia caotica quindi non ritrovi alta può andare ad eccitare i domini di coerenza proprio i quali invece sono stati coerenti non caotici perché gli elettroni dati alla coerenza si minano in fase non solo ma questo moto siccome è un primo primo di attento non decade ma può durare molto lungo allora se il flusso dell'energia estremamente l'energia intrappolata nel dominio di coerenza non cresce cioè molte eccitazioni caotiche vengono trasformate dal dominio di coerenza in un'unica eccitazione coerente quindi la cui entro ecco il meccanismo delle strutture dissipative cioè il dominio di coerenza diventa una sorta di attenzione diventa una sorta e questo è legato solo al fatto che lo stato eccitato è appena dall'unica gli elettroni liberi se non ci fossero gli elettroni liberi non sarebbe quindi questo è proprio specifico quindi il dominio di coerenza è un meccanismo che trasforma l'energia caotica ad alta entropia in energia non caotica ad assento lì e le energie si sommano e siccome quello dura molto la vita nella in questi stati eccitati c'è possibilità di sommare un numero si è denominato miliardi di eccitazioni per cui la filosofia è come farsi un milione di euro tutto il momento di percorso il dominio di coerenza faverga tiene raccoglie l'energia ambientale e la trasforma in energia che sommando sommando raggiunge il livello delle energie di eccitazione dell'altra allora supponiamo che in un certo punto sommando 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 si raggiunge l'energia di eccitazione di una particolare biomolecola che sta piattata su un po' con i domini di coerenza quando si raggiunge l'uguaglianza per risonanza questa energia di trasferità la biomolecola che rimane eccitata stiamo cominciando a capire noi che andiamo a dialogare perché perché le reazioni chimiche hanno questa vita i domini di coerenza dell'acqua hanno queste caratteristiche 1 col loro campo elettromagnetico attracco l'elettromagnetico le quali quindi per incontrarsi non hanno bisogno di aspettare un punto prossimo ma vengono attratte vengono attratte non all'ingrosso ma con una legge ben definita perché un campo elettromagnetico che oscilla con una certa frequenza attrava le molecole che oscilla con la stessa frequenza e ignora quelle che oscilla con la stessa frequenza quindi abbiamo un codice la possibilità di avere un codice dolinico capito? che è regolato cioè il dolinico riserva con una certa frequenza a quella frequenza attira su di sé tutte le specie molecolari che è capace di oscillare con la stessa frequenza le quali tirate sulla superficie del dolinico si incontrano ecco e fanno la reazione questa reazione chimica produce dell'energia questa energia viene assorbita dalla linea di coerenza che in conseguenza cambia la frequenza di oscillazione avendo cambiato la frequenza di oscillazione le vecchie molecole non sono più attirate ma sono attirate delle due vedete emerge uno schema biochimico varia dipendente in cui ogni gradino ogni specchio di questa sequenza è determinata è determinata dalla sequenza precedente ed è determinata anche da improvvisi a flussi di energia ambientale che vanno a carinare quindi l'ambiente entra cioè se tutto fosse giusto la dinamica dell'energia ma non lo è proprio perché si sta rispetto e quindi è suscettibile di ricevere dall'ambiente tutte le eccitazioni possibili immaginali che provo questo è un problema in tempo lunga è perché dobbiamo fare un tempo a l'attività del mondo dobbiamo fare un tempo come sempre l'organizzatore perché tutta questa storia sta raccontando io recito cioè le mie macchine è vero l'importanza dei campi magnetici è sempre che ho fatto da dove sei allora riparco la strutturità dando un significato all'importanza dei campi magnetici bassa intenzione ripeto perché bassa intensità perché non è importante in questo meccanismo l'ammontare di energia cosa che è importante è la resistenza di una resistenza anzi l'alta intensità nella misura in cui può dare nuova manifestazioni tecniche può essere in questo è molto più efficace in un campo di bassa intensità che in un di alta intensità di solito l'alta intensità è in questo la bassa intensità adesso presso il dominio di qualsiasi questo è il dominio di qualsiasi di qualsiasi questo è un campo magnetico per minimizzare il dominio tende a mettersi quindi questo dà la reazione del dominio in modo antiparallero rispetto al campo magnetico ambientale in primo luogo il campo magnetico terrestre eventualmente corretto tra campi artificiali tre centinaio quindi il campo ambientale allora se aggiungo un magnetico in una situazione si vede a casa quindi vicino ad acqua vivente cioè ad acqua non c'è stanza il campo magnetico è sembrato questo è vero questo l'hanno osservato molte persone che nelle vicinanze per esempio di cascare l'acqua o di acqua vivente non di acqua morta acqua morta non necessitare i domini di coerenza non hanno immagazzinato energia il valore del campo magnetico è più basso e questo ha delle conseguenze fisiologiche per esempio questo può avere ragione nei radiodonanti i quali come sono i radiodonanti adesso lo possiamo vedere c'è nessuno l'organismo vivente è sensibile una sorgente d'acqua vorticosa produce un campo e quindi l'organismo vivente lo percepisce non percepisce non percepisce l'acqua stai niente una volta intermissione fece un esperimento arrivando allora mi sa sul pavimento dei tubi portavano ricoprire il pavimento con un tavolato di legno e poi chiamare un felice l'acqua l'invitare a trovare l'acqua e grazie l'acqua che scorre nel tubo non è l'acqua quindi tranquilla che non produce nessun campo è che non lo fia il problema perché c'è solo l'acqua e l'acqua è l'acqua un po' venta perché l'acqua attraverso i fiori vortici eccita i tubi di coerenza li carica e quindi gli rende sorgere di un campo magnetico in un luogo che può essere migliore e si dà il caso che la sensibilità di un esserimento al campo magnetico è più alta della sensibilità di un strumento artificiale con l'unica eccezione dello sfinto che è l'unica eccezione e grazie allo sfinto è stato rivelato quello che si sta dicendo adesso cioè che l'acqua turponenta produce che l'organismo diventa che viene solo al secondo posto dopo lo sfinto come capacità e quindi questa è la seconda non c'è nessuno tornando alla riga allora questo quanto magnetico ci prende il fio e lo sappiamo con un sacco di elettronotti e li fa ruotare in tondo attorno al tonio di quarenza e le oblite per analogia con il strumento che ha fatto ciclotronica la si chiama oblite ciclotronica ciclotronica un po' e le articelle in girano in tondo allora attorno ai campi magnetici ecco funziona con un ciclotronico il campo magnetico prodotto dalla domina di quarenza fa girare il momento adesso questi girano con una certa frequenza di rotazione cioè la frequenza di rotazione adesso supponiamo che io va all'esterno e applica un campo magnetico che ha la stessa frequenza della frequenza di ciclotronica il risultato è che i due campi si compensano e l'oione viene estratto dalla formica e si allontano però l'oione finchè ruotava tornando in licorenza è un certo momento angolare grandezza che in fisica si deve conservare dato che io ho eliminato il momento angolare degli iomi attraverso l'estrazione si mettono a ruotare gli elettroni del dominio di coerenza quindi si tornò un ortice e questo è diventato un modo per caricare il dominio di coerenza cioè è probabilmente il modo che la natura ha scelto per la minuccia perché il modo un po' calcolo come dicevo cioè quelli in cui i domini di coerenza ramazzano tutta l'energia ambientale sicuramente un modo possibile però un modo perché ogni dominio di coerenza bisogna che si carica un modo diverso da noi se io voglio avere invece una coerenza tra i domini di coerenza però i domini di coerenza operano tutti sullo stesso modo che un aggregato può fare perché dal domini di coerenza si può partire con l'architettura e quindi ho bisogno di produrre una regolarità quindi ho bisogno di avere un caricamento del termine di coerenza più possibile di coerenza e tanto che il campo magnetico terrestre ambientale è abbastanza uniforme cioè cambia molto dentro il volume di un particolare di coerenza questo permette di avere un caricamento logico perché la concentrazione di elettroliti almeno all'interno in particolare è piuttosto costante il campo magnetico è piuttosto costante quindi il numero di iomini che gira a ogni volume di coerenza è piuttosto costante il campo magnetico è un campo magnetico macroscopico quindi è un campo della luce di per la morte è piuttosto costante e quindi questo meccanismo carica il volume di coerenza con una legge uniforme assicurando un comportamento coerente quando si perde il quale sia la patologia cioè ogni pezzo opera e quindi c'è una dispersione genetica una patologia la biochimica non è più controllata come prima i processi casuali entano in gioco come c'è questo se invece uno riesce a discriminare questo per esempio quali sono i campi magnetici esterni che la natura da solito all'opera beh quelli ambienti in primo luogo quelli che si chiamano i moni schman i moni schman sono le oscillazioni del campo magnetico che si producono nello strato tra la superficie per l'esprella e l'anusprella per effetti in più dei fondi cioè tutta l'attività magnetica dell'uomo allora la posizione qui per esempio ha per particolare il valore delle frequenze se lo faccio in basso è 7 Hz poi ci stanno dei minuti queste sono le frequenze di schmane guarda caso le oscillazioni della materia evidente sono sintonizzate su questi essi dove le onde cerebrali risuonano con i mondi che vuol dire che nella storia dell'evoluzione della specie la materia è attraversata i mondi di schmane come penso quando stiamo distrutti e questo si perde anche la pandemia con la fronte e i modi di schmanali di schmanali di schmanali di schmanali e di schmanali e di schmanali e di schmanali grazie 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 grazie